Allora Davide Amodio della Bliss Euro, una sconfitta che fa male, che è arrivata dopo la straordinaria vittoria di settimana scorsa contro il Cotton Club. Eh sì, vabbè. Una partita che brucia per la quantità di occasioni avute è una partita importante da vincere. Se non vinci questa, questa è la partita che devi vincere. Però abbiamo giocato benissimo. Abbiamo avuto un sacco di occasioni e se non la butti dentro è giusto che perdi. Perché tre volte la storia avanti al portiere e mangi quei gol, tanti diritti al limite che di solito col Cotton è buttato dentro. Questa è stata la differenza. Come giudica l'inserimento del nuovo acquisto Kerchi? Beh, giudico bene. Ha fatto gol, tante sponde, tante occasioni create grazie a lui e tanti gol mangiati da parte nostra grazie a lui che li ha procurati. Pure Marco, molto bene. Però è andata male. Siamo stati forse un po' statici dietro, troppo lunghi. E' andata così. Però abbiamo giocato bene. Questo mi dà fiducia. La prossima va a giocare col Checco. Adesso siete, come detto, a 20 punti in classifica. Siete terzi ultimi. Avete 11 punti di distacco dalla nona, che è il Lattoni Ponzi. Quindi comunque vi giocherete fino all'ultimo la possibilità di andare a play-out. Prossima partita con la Checco dello Scapicollo. Quali sono le sensazioni per i prossimi match? No, vabbè, ma le sensazioni sono buone. Perché stasera siamo andati in partita. Abbiamo avuto tante occasioni. No, le sensazioni sono buone perché la squadra c'è. Questa è una sconfitta che brucia perché ce la siamo someritata. Tutto qua. Ok, grazie, grazie, complimenti.